Infine un pronostico, chi vincerà questo giro? Non posso che essere di parte, spero tanto lo vinca Nibali, questa guerra fredda Nibali-Roglic spero finisca presto e spero tanto che Vincenzo riesca a coronare il sogno di tutti gli italiani, essendo la nostra bandiera in un ciclismo globale che però ha in lui veramente il simbolo dell'Italia.